Giulia, Delelli e i Rama stanno insieme come si sono conosciuti e quando tutto è iniziato Giulia, Delelli e i Rama sono ufficialmente una coppia, e ormai non si parla d'altro. I fan dei due, alcuni entusiasti altri semplicemente sorpresi, non fanno che parlare d'altro sui social. Andrea Damante, quindi, sembra un capitolo chiuso definitivamente da Giulia che, con i Rama, pare aver ritrovato il sorriso. Ma come si sono conosciuti lei e il cantante di Amici? Quando tutto questo è iniziato? Ebbene, a rispondere a queste domande, oggi, ci ha pensato il settimanale chi nel suo ultimo numero. Entrambi, è vero, fanno parte della stessa agenzia la New Commandment di Francesco Facchinetti, ma pare che è sui social che i due hanno iniziato a sentirsi e a lanciarsi i primi segnali di interesse. Giulia, Delelli e i Rama un amore è nato su Instagram la scintilla tra Giulia, Delelli e i Rama, stando a quanto scritto da chi, pare sia scoccata circa un mese fa, quando l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mostrato su Instagram il nuovo disco del cantante, punto Giulia, che a più riprese aveva postato già sul suo profilo dei video di lei intenta a cantare nera la canzone di Rama uscita quest'estate, una volta avuto tra le mani l'ultimo album dell'ex allievo di Amici ha manifestato allora ai suoi follower il proprio entusiasmo. Sono felice come una bambina aveva di preciso scritto nel suo post. Queste parole, secondo il giornale, avrebbero attirato l'attenzione di Rama con il quale, da quel momento, la Delelli s'avrebbe iniziato una fitta corrispondenza che è poi passata dai social alla realtà punto Giulia Delelli e i Rama a Tu Si Que Vales la coppia ospite nella puntata di sabato Giulia Delelli e i Rama, come mostrato in anteprima in un video pubblicato da Witty TV, appariranno insieme nella prossima puntata di Tu Si Que Vales. Il cantante, sollecitato da Maria De Filippi, confermerà la sua storia con Giulia presente appunto tra il pubblico. Tutte le altre fidanzate vere o presunte tali che, nelle ultime ore, hanno attaccato il cantante, pare quindi che debbano farsene una ragione. Secondo il settimanale Ki Rama avrebbe deciso di chiudere con tutte per stare solo ed unicamente a Giulia.